Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video dedicato a tutti coloro che sono nati il 23 giugno del 1971. Io ringrazio Mari che mi ha scritto con questa data e mi ha dato l'opportunità di fare il video su questa data di nascita. Vi ricordo che chi volesse più approfondimenti sulla propria data di nascita può scrivermi in privato e lì io vi dirò le indicazioni per come avere un consulto con specifiche del nome della persona, il numero di destino e tante altre cose interessanti. Allora andiamo a vedere per questa data di nascita che cosa ci dicono i miei tarocchi. Una carta a questo mazzo di tarocchi per tutti coloro che sono nati il 23 giugno del 1971. Ok prendiamo questa che si è messa in evidenza e prendiamo anche una carta consiglio dal mio mazzo la bellezza della vita e vediamo qual è il consiglio finale che le mie carte vogliono dare a chi ha questa data di nascita. Vediamo un consiglio per coloro che sono nati il 23 giugno 1971. Ecco qua è venuta fuori da sola. La mettiamo qui e poi la andremo a vedere insieme. Allora vediamo un po che cosa abbiamo. Abbiamo il 2 di denari al contrario. Allora cosa dire? Vediamo che cosa ci dice questa carta. Vi ricordo anche se voi siete del cancro ma dato che qui è uscito anche se capovolto ma ha sempre lo stesso significato il segno del capricorno. Allora andate a vedere anche cosa dice il capricorno per quanto riguarda i video dei transiti lunari o anche delle domande. Andate a darci un'occhiata a parte il vostro e la risposta alla vostra domanda se casomai ne aveste una è forse. Allora mancanza di equilibrio, mancanza di organizzazione, decisioni finanziarie sbagliate, fare il passo più lungo della gamba, scarsa concentrazione mi dice questa carta. E adesso noi andiamo a vedere i simboli. I simboli che sono descritti per quanto riguarda il 2 di denari. Vediamo che cosa ci dice questa carta. Allora i simboli abbiamo fortune alterne, cambiamento, equilibrio. Per quanto riguarda fortune alterne il simbolo da portare alla tua attenzione sono le mani del giocoliere che affrontano gli alti e bassi delle condizioni umane cercando di compensarne gli eccessi. Poi abbiamo il cambiamento. Il simbolo è il cambiamento del 2 di denari e il nastro a forma di infinito. Sono illimitate le possibilità che l'universo ti riserva eppure sono tutte comprese tra le tue mani. e poi abbiamo l'equilibrio precario. I piedi del giocoliere che lo mantengono in equilibrio sebbene precario tra le diverse incombenze con cui destreggiarsi la leggerezza è la chiave del bilanciamento. Prendere tutto con un pochino più di leggerezza ci dice questa carta. Allora adesso andiamo a vedere che cosa ci dice il giorno di nascita cioè il 23 giugno. Vediamo un po'. Il 23 giugno è il giorno dell'incanto interpersonale. I nati il 23 giugno sono generalmente molto interessati alle relazioni sentimentali sia alle proprie sia a quelle degli altri. Al vertice della loro scala di valori vi è la storia d'amore con il loro compagno e fanno tutto quanto possono per affascinarlo o per fargli apprezzare le proprie doti. È la sensazione stessa di essere innamorati una sensazione così intensamente magnetica che incanta tanto queste persone. Alcuni spingono il loro interesse fino a diventare dei veri e propri studiosi dell'amore cercandone i meccanismi ispiratori attraverso l'accurato esame delle singole persone, l'aspetto fisico e ogni dettaglio della loro intimità. Uno studio di questo genere non implica necessariamente una sorta di guaiarismo ma nemmeno lo esclude del tutto. Le relazioni d'amore sono il sale della vita per tutti naturalmente ma quanto è intensità di rapporto è difficile battere una persona nata il 23 giugno. Eppure non sono soltanto le emozioni intime a convolgere questi individui ma anche l'intero aspetto sociale insito nella loro relazione. Essi infatti si sentono parte integrante della società e per questo è raro che con il loro partner tendono a nascondersi, anzi non esitano un attimo a far conoscere a tutti questo loro amore e accogliere tutti i benefici che la società mette a disposizione delle coppie. A meno che non lo richieda la loro religione tuttavia il matrimonio in quanto atto di ufficializzazione legale non ha per loro grande importanza. I nati in questo giorno sono attratti dall'incanto di arte, musica e letteratura di cui apprezzano soprattutto grandi personaggi, temi e motivi magici, forme e colori in grado di suscitare emozioni forti. L'arte occupa senz'altro una posizione centrale nella loro vita, anzi spesso si fanno prendere a tal punto dal fascino di un personaggio, di un libro, di un attore cinematografico da eleggerlo a sostituto temporaneo della persona amata. Naturalmente anche i nati il 23 giugno non possono fare a meno di vivere nel mondo terreno, cosa che fanno di solito senza eccessiva difficoltà. Dimostrano un buonsenso pratico nel gestire l'andamento domestico e nell'attendere e nell'attendere i compiti della vita quotidiana. Ma non ci mettono mai tutta l'energia che mettono nelle questioni magiche e sentimentali. Coloro che studiano le relazioni umane sono portati a organizzare mentalmente le informazioni di strutture e categorie che elaborano ardite e complicate teorie sull'amore e sull'intimità. Devono tuttavia evitare di diventare indiscreti e pettegoli e di ficcare troppo il naso negli affari degli altri, anche se ciò risulta alquanto difficile, visto l'avido interesse che mettono in ogni cosa. Questi studiosi dell'amore devono poi guardarsi dall'invidia, mentre tutti coloro che sono coinvolti nei rapporti sentimentali devono evitare di trasformare l'amore in astio e gelosia se la relazione dovesse finire. Il segno zodiacale di appartenenza è il cancro. I pregi renati in questo giorno sono magnetico, incantatore, romantico. I difetti sono indiscreto, curioso e troppo coinvolto. Andiamo a vedere adesso qualcosa che riguarda il nostro segno zodiacale. Abbiamo detto cancro. Non sappiamo l'ascendente. Dato che abbiamo parlato molto di amore in questa descrizione, vediamo il cancro e il lavoro. A prescindere dalla grande pigrizia del segno, il cancro, se può farne a meno, non lavora. Non è ambizioso e non gli interessa conquistare posizioni di comodo. E comunque fin quando è possibile rifugio da ogni responsabilità, anzi è abilissimo nel far lavorare gli altri. Non si sa come, ma trova sempre chi, sempre chi impietosito, si accolla i lavori che lui dice di non sapere poter fare, sempre a causa della sua famosissima sensibilità. Ciononostante, quando è necessario, il cancro si adegua al lavoro anche se in linea di massima preferisce un lavoro da dipendente nell'ambito di enti e grandi aziende. Il cancro ha uno spirito incline al commercio e il suo innato buonsenso gli suggerirà affari vantaggiosi. Spesso il commercio del cancro si orienta su articoli per la casa come elettrodomestici, mobile, cucina ecc. Molti cancro sono dei veri intenditori d'antiquariato e alcuni fanno di questa passione una professione. La loro grande passione per la casa ne induce parecchi a scegliere la professione di architetto, arredatore ecc. Appartiene a questo segno un gran numero di artisti, musicisti, cantautori, poeti, pittori, scultori e mercanti d'arte. Altre professioni in cui si esprimono bene le caratteristiche cancerine sono la ginecologia e la pediatria. Allora il cancro è il denaro. Il cancro è avido di denaro solo nella misura in cui esso può soddisfare le sue esigenze di comfort e di vita algiata, dandogli anche la possibilità di acquistare cose belle e opere d'arte. La prima esigenza del cancro è una bella casa. In seguito comprerà un'altra bella casa al mare o in montagna vicino al lago. Questo segno non è un accumulatore di sostanze, è piuttosto un accumulatore di beni immobiliari, ma non lavorerà mai più del necessario per il solo scopo di diventare più ricco. Potrà essere un collezionista di oggetti di antiquariato e di oggetti d'arte, ma il suo patrimonio, tutto ciò che possiede sarà lì sotto gli occhi di tutti e soprattutto sotto i suoi dentro la sua casa. Allora andiamo a vedere qual è il consiglio dal mio bellissimo mazzo La bellezza della vita, potete visionare i mazzi che io ho creato giù all'indirizzo che vedete sotto ogni mio video. Stai lontano dalle persone negative, hanno un problema per ogni soluzione. Bene caramari, io ti ringrazio per avermi dato la possibilità di fare il video con questa data di nascita, ringrazio tutti coloro che mi commenteranno se si riconoscono in queste parole. Vi ricordo che chi volesse approfondire con una data di nascita può chiedermi informazioni tramite i miei contatti per sapere modalità e specifiche del consulto. Io vi ringrazio, vi saluto e continuate a scrivermi nome e date di nascite sotto il video nei commenti e io piano piano vedete sto cercando di farne il più possibile. Dovete semplicemente avere la bontà di aspettare. Io con questo vi ringrazio, è veramente tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.